il nostro dj è spettacolare una garanzia poteva costare anche 10.000 euro il nostro dj, vabbè gli abbiamo dato 11.000 allora insomma alla fine possiamo dire che bravissimo Giuseppe Scaligello è il numero uno ci ha dato 100 euro per fare questa cosa iscriviti al nostro canale il nostro canale ci ha sposati Giuseppe Scaligello not normal dj